Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico Anche questo episodio dal colore di Retro Computing Oggi faremo una retrospettiva particolare specifica per il mercato dell'home computing britannico Akron Archimedes contro Commodore Amiga 500 uno scontro mitico e galattico relativi a due super home computer questo scontro ebbe a, soprattutto, a svolgersi in Gran Bretagna perché l'Acon Archimedes in Italia, nonostante fosse della Olivetti l'Acon, una partecipata società controllata e collegata al gruppo Olivetti ecco, non ebbe mai a proporre il suo bellissimo computer in Italia Ora, per fare questo scontro mitico tra Akron Archimedes contro Commodore Amiga 500 andremo a guardare e leggersi due articoli delle riviste del tempo immaginando di essere degli utenti britannici che si trovavano, diciamo, di fronte alla scelta se comprare un Akron Archimedes Commodore Amiga 500 e quindi andremo a leggere queste due riviste, recensioni in modo da farci un'idea e poi le commenteremo riguardo al grandissimo scontro e mitico ok, andiamo a fare questo viaggio nel tempo Commodore Magazine questo è del giugno del 1987 è una rivista statunitense ma arrivava ed era conosciuta anche sul mercato britannico andremo a leggersi questa, diciamo, rivista per vedere la recensione che faceva Commodore Magazine del nuovo uscito di Mamma Comodore Amiga 500 ok, andiamo a vedere cosa c'era con questo numero c'erano le lettere, le notizie, spazio avventure, trucchi e trucchetti altri trucchetti, recensioni software diciamo, computer tutor spazio, diciamo, per l'insegnamento per quanto riguarda una sala, diciamo, software e programmazione del computer telecomunicazioni spazio, leggi inside the track, ossia copyright, aggiornamenti relativi a, diciamo, sempre a altre cose giochi poi GIFIS, che non ho idea di che cosa sia uno spazio per gli utenti di Commodore 64 uno spazio per gli utenti di Commodore 128 aggiornamenti del Mondamiga come entrare, praticamente, nei programmi una, diciamo, recensione dei programmi per quanto riguarda il messaging spazio, gruppi, gruppi, discussione e, ovviamente, pubblicità poi c'era uno spazio dedicato a tutto specifico a, diciamo, la migliore grafica del Commodore 64 quindi uno spazio, diciamo, per il Commodore 64 questo dovrebbe essere, credo, Duck Features, Seagars and Bill Clary forse sarebbe un'avventura, qualcosa del genere nuovo Amiga questo è quello che andremo a vedere a pagina 74 un articolo interamente dedicato alla Miga 500 e ce lo leggeremo tutto perché, come un viaggio nel tempo, andremo a vedere che cosa ne parlavano le riviste del tempo e poi c'era uno spazio a una seconda parte, una puntata riguarda un'avventura per probabilmente Commodore 64 o Commodore 128 ok, andiamo a bomba alla pagina 74 e ci leggeremo tutto l'articolo eccoci qui due nuovi Amiga da Commodore in particolare, in modo, nell'articolo c'è spazio per la Miga 500 l'ultimo, diciamo, il migliore home computer e poi c'è anche l'articolo continua sulla Miga 2000 ci leggeremo l'articolo della Miga 500 e daremo una brevissima occhiata all'Amiga 2000 che era essenzialmente una Miga 1000 a cui era stato aggiunto, praticamente, degli slot con un'architettura eccoci qua dunque, 5 anni fa Commodore introdusse il Commodore 64 con 64K di RAM un microprocessore ad 8 bit il prezzo di mercato consigliato era di circa 595$ quest'anno Commodore rilascia la Miga 500 con 512K e un microprocessore a 16 bit multitasking e il prezzo consigliato di mercato è di circa 649$ la Miga 500 ha un prezzo più basso rispetto alla Miga 1000 vero in apparenza assomiglia un po' a un Commodore 128 però la Miga 500 viene con 512K Kickstart 1.2 e un dischetto da 3.5 la Miga 500 per il software per la Miga 500 è perfettamente compatibile con quello della Miga 1000 che comunque ha un Kickstart 1.2 identico, praticamente allora, sulle porte, diciamo nel retro posteriore della Miga 500 c'è la porta RGB poi abbiamo e una presa, diciamo, per una disk drive qua abbiamo aggiuntivo quindi sempre da 3.5 una porta seriale Centronics e una porta parallela poi, veniamo un po' sulla parte posteriore poi ci sono le uscite RC audio che possono essere, diciamo, attaccate al vostro porto diciamo lo stereo e poi, diciamo, che cosa c'è invece? sulla parte destra c'è lo spinotto, diciamo per raggiungere un RAM sulla parte sinistra c'è uno spazio a 68 pin per inserirne in espansione e portare, praticamente, la Miga a 1 Mega dunque sul fondo appunto c'è questo spazio per questo vano che porta la Miga, diciamo, a 512 K 512 K più 512 K si va, praticamente, a 1 Mega per quanto la Miga 500 possa essere espanso fino a 9 Mega ovviamente servivano tecniche di bank switching qui non lo dice, ma ve lo dico io perché il 68000 più di 2 Mega lineari non indirizzato espansione di RAM vediamo un po' vediamo un po' l'alimentazione per la Miga poi le varie porte poi ovviamente la tastiera e il mouse la tastiera composta da 94 tasti ricorda, diciamo, quella della Miga 1000 ha il tasterino numerico e la Miga piena e la Miga vuota ricorda un po' come ergonomia, diciamo la tastiera IBM per quanto, diciamo, a dire la verità io non ci vedo poi così tanta così tanta somiglianza una tastiera la Miga 500 poi la vedremo nella foto perfettamente ergonomica, quindi non ci aveva nessun problema le risoluzioni la bassa risoluzione era 320x200 a 4096 colori oppure 640x200 a 640x400 a 16 colori quindi tantissimi una roba veramente veramente disumante poi vediamo un po' cosa dice anche sempre della Miga 500 ha un controllo audio veramente potente suono stereo a 4 canali con dei chip custom per l'audio e il video che sollevano il microprocessore da fare praticamente la multimedialità e quindi la macchina ha una tremenda e favolosa multimedialità questo è indubbiamente vero eccolo qui come la Miga 500 ha un 68000 con un sistema operativo multitasking c'è la gestione della MMU e diciamo permette diciamo con l'utilizzo dei coprocessori con il coprocessore di grafica e del suono di avere diciamo un migliore multitasking la Miga 500 come tantissimi altri computer del tempo che non fanno nomi ma ci si riferisce praticamente a quello che poi sia l'Apple 2GS quanto al pacco Archimedes che poi la vedremo offre un sistema operativo multitasking la differenza è che la Miga 500 permette di avere performance veramente elevate senza andare a sacrificare niente eccolo qua qui c'era la foto della Miga 500 vediamo un po' cosa si dice aggiuntivamente i due nuovi entrati per il mondo Amiga sono la Miga 500 e la Miga 2000 la Miga 2000 praticamente perfettamente compatibile con la Miga 1000 era però per il segmento business computing e si profilava ad essere diciamo una macchina high-end però diciamo ad architettura aperta è pienamente espandibile quindi una Miga 1000 però con slot in un case un po' diciamo un po' bruttino in un case della Miga 2000 se l'avessero girato un tover comunque la Miga 500 era la macchina per l'home computing vediamo un po' eccolo qui una bella fotografia rende bene l'idea e poi le foto laterali qui sulla destra c'era il disk drive eccolo qui nella parte posteriore c'era l'uscita monocromatica video la uscita rg video la presa dell'alimentazione una porta parallela una porta seriale una porta da utilizzare per i disk drive poi le uscite audio stereo destra e sinistra e poi abbiamo presa per mouse e presa per joystick e dall'altra parte i disk drive adesso andiamo a sbricciare rapidamente la Miga 2000 che appunto si parla questo però non era una macchina un computer ma una macchina bensì appunto business computing che poteva montare anche delle schede 80 e 88 e fa girare MS-DOS eccolo qui andiamo a vedere questo era indubbiamente molto più business computing con il doppio disk drive ci si poteva mettere anche il disco fisso scasi oppure ci si poteva aggiungere successione questa è effettivamente una tastiera a tutti gli effetti di tipo IBM non è nulla che spartire questa tastiera e la Miga 2000 con la Miga 1000 che aveva sempre le stesse funzionalità ma era molto più mi avviso molto più elegante e molto più compatta perché diciamo la tastiera della Miga 1000 aveva sia tasti funzione che tasti frecce tasti delete e quant'altro e il tastierino ma era meno ingombrante che una tastiera per questa che era identica al mondo invece IBM la Miga 500 andremo a vedere giusto per fare un confronto eccola qua si riprendeva un po' diciamo un po' come diciamo dal punto di vista per questa separazione il tipo IBM però indubbiamente io ci rivedo nel per lo meno ci rivedo più l'eleganza dell'amica la tastiera dell'amica 1000 che era più compatta la larghezza di questo con questo la larghezza della tastiera quindi dell'amica 1000 non è poi più molto più tanto più grande di un'amica della tastiera di un'amica 1000 più o meno quindi come larghezza questo era più o meno simile a un'amica a un'amica 1000 però diciamo era molto decisamente più compatta architettura chiusa una bellissima macchina che fatto storia questo è l'articolo e poi qui invece si parla della Amica 2000 Amica 2000 già che ci siamo si vede un'occhiatina dietro le prese diciamo i vani per le espansioni quell'uscita slot la porta seriale l'uscita stereo destra e sinistra e l'uscita disk drive aggiuntiva la porta parallela e l'uscita rgp e poi l'alimentazione quindi le stesse tutte le stesse prese che c'erano della Amica 500 e più o nemmeno la stessa motherboard a quella però non sono raggiunte numerosi slot isa e zorro questa è una macchina aperta decisamente business computing ci ho fatto diciamo vari podcast comunque noi non ci interessa in questo in questa retrospettiva ci focalizzeremo sostanzialmente sulla Amica 500 ecco una macchina per l'home computing veramente potente ad un prezzo economico qui il prezzo era di circa andiamo a vedere 595 dollari poi il cambio con la sterlina di la metà non ve lo saprei dire però diciamo era penso che fosse intorno ai 300 300 sterline forse 300 400 sterline la sterline era sempre un pochino più prezzava un pochino di tutel un pochino sopra la parità del dollar una macchina questa veramente bellissima per il tempo ci aveva ci poteva girare perfettamente compilatori basic interpreti basic il pascal ci girava senza problemi ci aveva word processors integrati database per fare diciamo tesine di scuola elaborati temi per tenere l'archivio del software della miga quindi ci aveva praticamente tutto videogiochi a volontà poteva essere espanto fino a un mega mettendoci subito un'espansioncina sotto ecco detto tra noi una osa che però questa non compare nella rivista è come mai il 68000 che poteva indirizzare fino a 2 mega linearmente su una macchina così non ci avevano messo già direttamente un mega e poi nello slottino interno sotto inferiore ci poteva mettere un'espansione da un altro mega in modo da andare a portare la macchina con 2 mega in modo da sfruttare la massima potenza lineare del 68000 questa è una osa che obiettivamente la Commodore è un mistero perché ebbe a segare a metà le capacità del 68000 per l'home computing intanto avrebbe dato sostanzialmente una una diciamo un design e diciamo un aspetto e un profilo di spessore molto più elevato di quanto non avesse la miga 500 la stessa cosa ancora più forte lo si ritrova nella miga 2000 che la miga 2000 era la macchina high-end che poteva indirizzare fino a 9 mega ecco questa c'aveva un mega non si capisce perché non ci avevano già messo già 2 mega e poi gli ulteriori salti 7 praticamente potevano essere fatti con espansioni con tecniche di bank switch però perlomeno mettici tutti subito i 2 mega ecco questa cosa non lo dice però è chiaro che non lo dica perché questa era una rivista molto a favore parecchio di parte per Commodore quindi in conseguenza non poteva essere non poteva essere un po' critica e andare in un certo modo a segare le gambe alla miga 500 l'appena uscito facendo notare agli utenti il fatto che il microprocessore poteva indirizzare fino a 2 mega ma la Commodore per ragioni misteriose ci aveva messo solo 500 12k invece praticamente di 1 mega subito e poi potendo sfruttare l'espansione interna per slot da 1 mega invece che una un'espansioncina al 512k ti portava la macchina a 1 mega però era essenzialmente segato a metà perché il 68000 poteva indirizzare linearmente senza tecniche di bank switching con i suoi 24 bit di programma di contatore di programma fino a 2 comunque sia nonostante questa diciamo pecca che la rivista non dice questa era una macchina indubbiamente di tutto rispetto alla bellissima macchina non c'era a dirci nulla una macchina indubbiamente che se uno la comprava si ritrovava una macchina che praticamente l'anno dopo ci metteva l'espansione oppure l'anno dopo ci metteva la stampante e al terzo anno ci metteva l'espansione era una macchina che gli durava 6-7 anni ci poteva fare praticamente un po' tutto perché Pascal ci girava c'era il basic c'era la possibilità di espandere quindi faccia anche l'assemblatore con l'assemble 68000 c'erano i videogiochi il web processor il database i programmi di grafica 3D c'era praticamente tutto quello che uno voleva su questo ce la trovava in una macchina veramente bella ok andiamo a vedere praticamente l'altra l'altra rivista eccolo qui Acon User questa è una rivista britannica costava una stellina e 30 questo è il nuovo Acon Archimedes bellissimo splendido favoloso una bellissima tastiera estesa il mouse un microprocessore RISC da paura ci ho fatto vari podcast all'interno il link lo trovate in descrizione nella playlist www.fareretrocomputing.tk nuovo BBC micro però motorizzato dal RISC questo è il 1987 andremo a vedere rapidamente cosa c'era in questa rivista e poi ci focalizzeremo sull'articolo cosa c'era in questa rivista il nuovo spazio nuovi utenti una serie di recensioni giochi software software reportage countdown per case stroke questo è probabilmente un gioco spazio educazione poi una serie di rubriche fisse e poi eccolo qui spazio caratteristiche nuove macchine nuove Acorn nuova tecnologia Acorn micro 2 e poi eccolo qui lo andremo a vedere sia questo sistema operativo che praticamente la relativa macchina poi c'erano altri spazi altri basic e altre cose noi comunque andremo a vedere sia la parte del software che la recensione hardware di questa bellissima macchina ok andiamo a poco il RISC rivelato il nuovo Acorn micro Acorn ha finalmente annunciato dopo una lunga attesa la tecnologia RISC Reduction Instruction Set Computing e la nuova serie di computer Archimedes come ho detto da Acorn User queste sono le nuove macchine che sostituiranno diciamo i BBC Acorn Master c'era l'Acon Archimedes A305 con 0,5 mega di praticamente ram una macchina A305 sostanzialmente identica come dotazione ram della miga 500 poi c'era l'Acon A440 che aveva un hard disk in tenno da 20 mega e 4 mega di ram quindi già una macchina completamente diversa più più simile l'A440 alla miga 2000 l'A305 costava 975 sterline quindi decisamente decisamente di più della miga della miga 500 ora detto tra noi quello che non dice la rivista questa era dell'Olivetti aveva un sistema operativo a finestre diciamo Artur che poi divenne un sistema operativo per il RISC OS ora questa macchina la linea di produzione di questa macchina siccome era dell'Olivetti avrebbe potuto essere trasferita portata in Italia e sfruttando la lira svalutata questa macchina avrebbe avuto assolutamente un prezzo più basso perché poi sarebbe stata riesportata in Gran Bretagna e in tutta Europa mettendo in serie a difficoltà in serie a difficoltà la miga 500 contemporaneamente lo sviluppo del software e il potenziamento di questa macchina invece poteva essere diciamo mantenuto nella HACON della Gran Bretagna di modo tale che il software veniva diciamo gestito e sviluppato in Gran Bretagna peraltro il software in inglese fatto per gli inglesi ma poi in inglesi avrebbe potuto girare senza problemi di lingua negli Stati Uniti e in tutta Europa chiunque sapeva diciamo l'inglese il potenziamento di questa macchina e lo sviluppo avrebbe potuto essere rimasto diciamo all'interno della catena del valore della HACON mentre questa linea di produzione poteva essere portata benissimo in Italia potendo offrire una macchina assemblata in Italia e poi riesportata anzi esportata in Gran Bretagna e in tutta Europa a un prezzo sicuramente più competitivo che farlo lavorare diciamo in prezzarico costi comunque torniamo torniamo a noi a leggere questo articolo questa questa macchina è comparabile con il BBC Master 128 che costava 700 sterline quindi appena questa 975 sterline ecco più o meno beh insomma bisogna che mi vada a informare quanto era il cambio con il dollaro a quel tempo se no non abbiamo un riferimento chiaro poi c'era ci sarà diciamo più avanti l'Amiga cioè l'Accorn 305 e la 310 macchine che saranno disponibili tra luglio e settembre con la serie 400 e 440 e 410 che poi verranno in gennaio quindi c'era tutta una linea di macchine che sarebbero uscite chiunque sia familiare con la linea BBC Accorn sa che l'Archimedes ne ha praticamente la sua evoluzione il BBC Master ci aveva un 6502 e questo ci aveva un emulatore software del 6502 quindi praticamente anche se ci aveva un disk drive da 3,5 se ci compravate un disk drive da 5,25 ci potevate far girare sostanzialmente i programmi del BBC Accorn se con il 6502 per intendersi la roba del PC 128s niente più e nemmeno il PC 128s ronzava poteva rullare sopra questa sotto la scheda dell'emulatore tanto per dire anche se diciamo il PC 128s dalla diretti aveva delle rammoletti comunque il suo software se non altro ci poteva girare tranquillamente quello della versione inglese dunque 640x512 4096 colori poi ci sono i giochi 128k di dunque quanto c'aveva? vediamo spazio no c'aveva 512 di K di ram vediamo un po' altre cose ci poteva girare il fortan 77 c'era una serie di programmi professionali come web processor esplice e quant'altro poi programmi di grafica autocad molti linguaggi logotron e un po' tutto praticamente ci girava senza problemi vediamo un po' qui c'è la pubblicità io vado avanti perché intanto l'articolo continua eccolo il nuovo Acron Archimede sotto le mille sterline estremamente Acron Archimede è disegnato per essere un prodotto con la tastiera separata dall'unità centrale dove c'è la tastiera l'alimentatore e l'unità centrale ricorda un po' una tastiera da nel mondo IBM una tastiera di accorti con 305 305 tasti e 310 inclusi il tasto funzione tasto reset ecco qui le dotazioni adesso le guarderemo vediamo l'art 105 costava 975 sterline ci aveva ci aveva come ci aveva due slot ci si poteva mettere successivamente un disco fisso interno da 20 mega e ci aveva praticamente quanto ci aveva ci aveva 512k espandibile fino a 1 mega diciamo la versione base l'equivalente praticamente dell'amiga 500 le altre erano macchine più elevate ad esempio questa l'amiga l'acqua 440 2700 sterline ci aveva 4 mega di ram quindi decisamente molto più grosso della miga 2000 espandibile qui non era detto quanto forse veramente non più di 4 poi praticamente ci aveva il disco fisso e il dischetto questo però sarebbe uscito nel novembre dell'87 qui adesso c'era disponibile subito l'A305 ecco il nuovo sistema operativo Artur che era molto Mac-like un sistema operativo a finestra che funzionava dal dischetto questa era la scheda madre del case del l'Acon Archimedes 605 sui dischetti vediamo un po' che cosa ecco le risoluzioni vediamo un po' la risoluzione massima era di 640 x 256 a 640 x 256 a 256 colori quindi un pochino più piccola di di circa 200 linee in sulle righe che era 640 x 400 l'Amiga 500 però questo c'aveva più colori perché ce ne aveva 256 allora non vediamo un po' c'era un sistema operativo a finestre Mac-like quindi con l'utilizzo del jam quindi 512 pixel poi insomma un sistema operativo veramente 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 bello un grande benvenuto dell'Archimedes con la nuova linea che c'aveva un emulatore software per avere tutta la compatibilità con il BBC Micro quindi ovviamente comprovate una macchina così con un disco e recuperavate il disco del BBC Aquel Master da 5.25 e eravate tranquilli di poter utilizzare anche i programmi più vecchi a 8 bit perché c'aveva un emulatore software e via via poi vi facevate la collezione della biblioteca con il software nuovo per sfruttare al meglio il microprocessore potente microprocessore RISC che ci aveva detto c'aveva un basic con l'end-while repeat until poi una IF e DEM complessa istruzioni per i vettori ROM e anche la ricorsività quindi praticamente una macchina veramente veramente buona perché non comprarla ti lo comprerà ecco sarà comprata praticamente da chi vuole ce ne se ne era un po' per tutti i gusti quello da LAT pardon LAT la con 305 con 500 rgk spendibile fino a 1 mega se non macchine più potenti e più grosse inframezze per dal inframezzate era diciamo un potente competitor diciamo con le linee 68000 che giravano su Atari e su Commodore però il microprocessore RISC era molto più potente se li fumava se li fumava praticamente i 68000 difatti qui ci sono le prove con i calcoli di integer basic i calcoli matematici ci metteva 0.35 dove invece la miga 2000 ci metteva 1.7 e il basic 2.22 e per l'altro il BCA con i 2.80 quindi praticamente i rischi estremamente veloci per i calcoli trigonometrici 1.41 contro 6.7 quindi praticamente era veloce 6 volte di più e poi vediamo praticamente per i formativi grafici anche qui tutta una serie di prove che erano state fatte decisamente più veloce successivamente si diceva che l'Apple stava osservando quello che stava succedendo nel mondo del microprocessore il rischio difatti poi successivamente poi ebbe a sostituire il 68000 con il consorzio PIPC IBM Motorola e Apple che è la 305 diciamo costa la metà di un Macintosh SE ma è più potente di un terzo è tre volte più potente chiaramente una macchina veramente buona ora poi nelle considerazioni andremo a discutere praticamente i prezzi riconvertendo tutti in sterline ok andiamo a tirare le fila ok tiriamo rapidamente le fila tra Amiga 500 e Archimedes 305 che era il modello base tutti e due avevano il disk drive da 800kb tutti e due davano il mouse tutti e due davano praticamente il relativo computer con il case e tastiera la differenza era che l'Amiga 500 era un'architettura chiusa mentre l'Archimedes 305 aveva un case separato dalla tastiera e era un pochino più aperto perché era possibile espanderlo allora l'Amiga 500 praticamente aveva un 68007MHz con una potenza di 0.5 MIPS a 32 bit l'Archimedes aveva un risk arm di 7 MHz ma con una potenza di 4.5 MIPS era praticamente quattro volte più veloce il microprocessore del portentoso 68000 e il risk arm praticamente gli levava il fumo alle schiacciate e gli mangiava la pappa al 68000 per quattro volte risoluzione video 640x400 a 16 colori l'Amiga 500 640x256 e 256 colori qui diciamo che la risoluzione video è piuttosto simile a mio avviso è un pochino più elevata quella dell'Archimedes perché anche se perde le 200 200 righe praticamente ha più colori c'era 256 contro i solo 16 dell'Amiga 500 tutte e due avevano l'audio stereo tutte e due avevano la RAM 512K tutte e due erano espandibili fino a 1Mb tutte e due avevano un sistema operativo a finestre multitasking però l'Amiga 500 non poteva montare un hard disk interno invece l'Archimedes 305 appunto avendoci un case separato con motherboard e alimentatore e disk drive aveva il controller e un vano vuoto per poter mettere successivamente un disco fisso interno quindi era una macchina a mio avviso tecnicamente molto superiore dell'Archimedes 305 sulla Amiga 500 decisamente più potente come potenza di calcolo un pochino più espandibile e come risoluzione video praticamente era addirittura superiore vediamo i prezzi i prezzi la Amiga 500 costava 649 dollari portato al cambio dell'intorno al del 1980 metà 1980 era approssimativamente 528.37 sterline conto il 975 sterline ora era chiaramente più economico la Amiga 500 che costava praticamente la metà di un'Archimedes 305 ma l'Archimedes 305 era una macchina che valeva quattro volte di più quale scegliere? beh una bella scozzo perché anche la Amiga 500 era una bella macchina quindi perché pagare il doppio per avere una macchina che diciamo non era poi tanto così distante dall'Archimedes perché anche se il microprocessore era palesemente meno potente era un quarto della potenza di quello di calcolo che c'era l'Archimedes in termini multimediale di giochi di quel processo di spridici di linguaggi che ci giravano la Amiga 500 ci girava tutto e praticamente non aveva grosse pecche per cui ci se ne accorgeva in termini di calcolo e di resa rispetto all'Archimedes c'è il fatto che però la Amiga 500 non aveva spazio per un hard disk interno e quindi questo poteva essere un elemento che relegava la macchina praticamente a sostanzialmente essere più chiusa perché il sistema operativo non avendo un hard disk al massimo si poteva portare un mega e oltre non si poteva andare mentre l'Archimedes era una macchina che decisamente aveva una vita utile più lunga perché mettendo successivamente un hard disk con un'evoluzione del sistema operativo anche se la RAM praticamente arrivava fino a un mega però magari si poteva pensare che dato che l'Archimedes era un microprocessore a 32 bit quindi indirizzava molta più di memoria del 24 bit del 68000 l'evoluzione del sistema operativo potesse avrebbe potuto utilizzare l'hard disk come memoria virtuale la 305 pur avendo il limite di un mega per poter svappare e utilizzare la memoria virtuale rallentando però la macchina questo però costava il doppio rispetto a questo e quindi indubbiamente la mega 500 era il più economico però il più potente come praticamente capacità di calcolo di grafici e di anche espandibilità indubbiamente era l'Archimedes una bella battaglia che ebbe diciamo a detonare soltanto sul mercato britannico perché noi qui in Italia dell'Archimedes 305 non se ne vide mai nemmeno uno peccato perché se l'oliverti ti avesse portato la linea di produzione in Italia dell'Archimedes a 305 invece che costare 975 sterline magari costava era apprezzato in lire e con il gioco delle valute questo magari poteva costare lo stesso importo di 528 sterline o più o meno molto simile ok per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima